Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una riparazione on the road, nel senso che sono rimasto per strada, nel campo allora si è spaccato un altro prigioniero del carburatore, quindi lavora male, aspira aria, è un lavoro che avrei dovuto fare già dell'anno scorso, lo faccio quest'anno, quindi adesso lo tiriamo giù, siamo qui in mezzo al campo, lo porto su da me dove ho il banco da lavoro e poi vedo cosa riesco a fare, se no a limite mi faccio aiutare dal mio amico Fabbro. Piano piano adesso vi faccio vedere gli step di lavorazione, toglierò ovviamente questo calcio di ferro perché teneva la varmita che è sovradimensionata e ha spaccato un altro prigioniero l'anno scorso. Insomma c'è qualche lavoro da fare, mi serve farlo veloce perché devo lavorare. Quindi adesso vi faccio vedere. Ok, il più è fatto, praticamente adesso è un gioco da ragazzi, detto fra di noi. Quindi adesso lo carico, porto su con la carriola e lo esaminiamo punto a punto perché è ora che cominci a lavorare. Ok, ma per prima cosa dobbiamo togliere il serbatoio perché devo fare delle saldature e quindi non è il massimo, anche se l'ho svuotato, i vapori non fanno bene, quindi non evitare di farci male. E' in tutta posizione perché non posso scaldarlo e non posso tagliarlo. Quindi o viene via così o se no siamo nei guai. Bene, la dolcezza si ottiene tutto. Questo tiriamo via ben lontano. Facciamo via il filtro dell'aria. Facciamo via il filtro dell'aria. Adesso mi avvicino e vi faccio vedere dove si è rotto, dove aspirà l'aria. Questa è una riparazione di fortuna fatta in mezzo al campo, poi sono rimaste lì. Togliamo via tutto. Dobbiamo fare un bel lavoro. Bene, mi avvicino con l'altra fotocamera e vi faccio vedere esattamente il punto dove si è rotto il prigioniero. Ecco, questo è il punto dove si è rotto il prigioniero. Vedete? Quindi cosa succede? Voi non lo vedete però fa delle piccole oscillazioni il carburatore, quindi entra aria che non dovrebbe entrare e rovina tutta la carburazione, quindi il motore va a singhiozzo. Continua ad accelerare ed accelerare. Accelerare ed accelerare e perde potenza. E come in questo caso, che la benzina è un po' vecchia, è di qualche mese, addirittura non rimane acceso e quindi poi si spegne. E' il momento di fare un po' di lavoro. Un altro prigioniero, eccolo qui, questa marmita è troppo grossa, quindi adesso la sostituisco, ne metto una più piccola, farà più rumore e pazienza. Il problema è se togliere questo prigioniero qui incastrato nella testa. Dovrò saldarlo e vedere se riesco a toglierlo, altrimenti vado all'amico Fabbro e mi faccio dare una mano, che ha gli attrezzi diversi dei miei. Adesso tolgo sto po' di marmita, peccato perché aveva un bel sound, non dava fastidio, però purtroppo è troppo grossa, quindi con le vibrazioni mi spacca i prigionieri. Allora ne metterò una più piccola. Se dovete fare questo lavoro col serbatoio della benzina, il consiglio che vi do è quello ovviamente di svuotarlo, svuotare il carburatore e i tubi e poi riempirli d'acqua senza far andare ovviamente l'acqua nel carburatore. Io ho un rubinettino all'uscita del serbatoio e se avessi dovuto fare quell'operazione l'avrei riempito d'acqua, perché anche se è vuoto, comunque dentro ci sono i vapori, con le scintille della saldatrice o magari se dovete fare un taglio di laniera, ecco lì è veramente pericoloso. Però se lo potete togliere è meglio. Ok, dobbiamo via il carburatore. Dovrebbe vedere un po' meglio. E questo viene via tutto il prigioniero, non importa. Oh, con di fortuna, forse, 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 ah guardate, si era abitato il prigioniero, si era sbloccato sotto, quindi non ho bisogno di lavorare su questo. Questo resto è da fuoco, meglio così, meglio così, lo muoviamo solo su questo. Se neanche con un po' di fortuna riesco a svitarlo, se no devo saldarlo. Sicurati, questo è incassato dentro. Visto che la fotocamera è morta, vorrei solo aggiornarvi, finalmente ce l'ho fatta. Ho saldato un bullone, nello svitare si è rotto anche il bullone, ma non importa perché sto tirando fuori il prigioniero. Credetemi, per essere un lavoro fatto in casa, questo mi dà una grandissima soddisfazione perché non devo andare dal nemico, per dar tempo. Invece così posso risolvere il problema. Per adesso, al momento, metterò la marmitta della barra falciante, che non uso, poi ne comprerò una nuova. Come vi dicevo, fa un rumore che la vallata mi sente da una parte all'altra, ma non importa. Pazienza, ne troverò una migliore e la cambierò. Eccolo qui. Bellissimo lavoro. Dà una pacca sulle spalle da solo. Ok. Tiro via l'altra marmitta, la monto e rimonto il tutto. Ok, ho cambiato batteria. Ho tolto il prigioniero. Ora troviamo il bulloncino adatto. Il problema è trovarlo della stessa lunghezza. Come ne ho idonei, dovrò tagliarne uno. Ok, come ne ho detto. Ne tagliamo uno a misura. Ok, tagliato a misura. Manca la guarnizione, non mi dite niente, ma non ce l'ho. E va bene, così. Vediamo se basta. Un centimetro ancora, ragazzi. Piccolo consiglio, quando dovete tagliare un bullone, prima infilate il dado dentro. Poi, a misura, lo tagliate. E dopo fate 4-5 volte avanti e indietro. Così potete ricostruire il filetto. Ok, ci stiamo. Sto cercando un paio di rondelle di quelle spaccate. Non so come le chiamate voi, ma... Queste qua, se le vedete, sono rondelle spaccate. E queste servono a non far mollare il dado. Tengono sempre in tensione. Ok. Vediamo se ci siamo. Stavolta va bene. Fatto. Benissimo. Questo l'abbiamo risolto. Cattiamo qui il carburatore. Facciamo la stessa cosa. Trovo un paio di rondelle spaccate. Allora, qui ho utilizzato il suo prigioniero con il dado e la rondella spaccata. Qui invece non mi piaceva come teneva. Quindi ho semplicemente fatto io, tagliato a misura, un bulloncino. Ho messo il dado spaccato. Adesso avviciniamo. Ah, ecco perché. Perché si è spannato dentro. Quindi adesso mettiamo sotto un controdado. Ecco perché non teneva, ragazzi. Ok. Adesso si. Questo invece ancora è buono. Lo teniamo. Bene. Questo abbiamo risolto. Adesso, vediamo che ci sono. Ho tutte le plastiche e i lamierati che si sono staccati, spanati nel tempo in un macello. Quindi adesso dobbiamo trovare il modo di fissare. Non è un bel lavoro, non è facile. Ma in qualche modo dovremmo farlo. Ok, qui ce ne va ancora una. Prima però mettiamo prima il serbatoio. Ok, torno con lo smartphone per avvicinarmi un attimino. Ho serrato tutto quello che potevo serrare. Anche il serbatoio si muoveva da una vita. Ho rimesso il filtro benzina pulito. Ho pulito il filtro dell'olio con il diluente all'anitro. E ho messo l'olio nuovo. Tra l'altro volevo fare lo sborone e l'ho messo il 530. Perché avevo solo quello in casa. Se no, come ovviamente, va bene qualunque l'olio motori. Il 1540 che costa poco è l'ideale. Ora, quando evitare critiche, sappiate che una volta rimontato, che adesso non c'ho voglia, lo pulirò. Quindi non mi dite niente. Finisco di montarlo e poi lo rimontiamo sopra il remoto coltivatore. Ok, l'ho rimesso su. Ovviamente, essendo da solo, o lo metto su o riprendo. Quindi, questa... Adesso fisso soltanto il primo. Poi chiudo. Chiudo tutto. Vediamo se va. Tempo di lavoro, un'ora e mezza, due al massimo. Dai, non male. In chiusura di video, quando ho finito di montare tutto il motore, poi ho voluto cambiare tutti i tubi della benzina perché ormai erano duri, erano crepati. Una volta all'anno, ogni due al massimo, questi vanno cambiati perché si induriscono. Quindi, ho rifatto tutto il collegamento, l'ho spostato, l'ho fatto in modo che occupasse meno spazio rispetto a prima. Filtro benzina nuovo. Aggiunta, fatta così al volo. Questo l'ho lasciato perché sennò perdevo troppo tempo a doverlo allargare. E qua ho messo un rubinetto che non è il suo, ma funziona molto bene. Mi serve per chiudere quando finisco di lavorare. Perché sennò non mi piace lasciare sempre in circolo la benzina. Bene, adesso lo mettiamo in moto e vediamo come va. Sentite che il minimo fa rumore, però il minimo riesce a regolare, non balla più. Fa molto bene, sono contento. Posso cominciare a lavorare nel campo. Vediamo fino a dove arriva il minimo. Vai, non è lontano. Il minimo è da regolare un pelo, ma sono già contento così. Bene, vi ringrazio per essere stati con me. Questo è stato un video molto, molto artigianale, quindi i veri meccanici non si offendano. Soprattutto non mi critichino perché è veramente stata un'operazione e una riparazione fatta in casa alla buona. Bene, vi auguro una buona giornata. Alla prossima!